Saldissima insicurezza non solo nell'abbigliamento. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 10 milioni di euro di articoli di bigiotteria non sicuri. I finanzieri hanno intensificato le attività di controllo proprio in vista delle vendite di fine stagione. Al centro dell'indagine, ancora una volta, il centro in grosso China di Padova, dove i baschi verdi hanno concentrato l'attenzione su un operatore economico padovano specializzato nel settore del fashion jewelry. Da inizio settimana è stato bloccato e sottoposto a sequestro un intero carico di articoli di bigiotteria importati direttamente dalla Cina per una montagna di circa 10 milioni di euro, quindi tra collane, anelli, braccialetti e catenine. Tutta la marcia in questione non aveva alcuna indicazione sulla denominazione legale e merceologica, il paese di produzione o la presenza di eventuali sostanze o materiali potenzialmente pericolosi come previsto dal Codice del Consumo. Tutti i monili sono stati così ritirati dal mercato e messi a disposizione della Camera di Commercio per le determinazioni di competenza. Il prezzo di vendita, manco a dirlo, era particolarmente vantaggioso. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio.